E le malattie rare associate a una causa genetica sono circa 7.000, ma oltre la metà dei malati resta ancora senza una diagnosi. A Pavia un software è in grado di analizzare in tempi rapidi tutti i geni del DNA di una persona e fino a 60.000 varianti per individuare la causa genetica di una malattia. Elena Cestino. Si chiama IVAI, il software che rivoluziona e supporta il lavoro dei genetisti nel riconoscere malattie rare. Quelle associate a una causa genetica nota sono oltre 7.000. Siamo a Pavia nel laboratorio di genetica molecolare e citogenetica della Fondazione Mondino. Qui ogni giorno si lavora per cercare di riconoscere queste patologie con il sequenziamento dei geni che codificano il DNA attraverso la cosiddetta diagnosi dell'esoma completo. Seguenziamo simultaneamente, contemporaneamente, tutti gli oltre 20.000 geni che sono nel nostro DNA e poi andiamo ad analizzare in maniera mirata, a seconda del sospetto diagnostico e dell'indicazione clinica, il gruppo, il pannello di geni che sono stati associati a quella specifica patologia. Analizzare tutti i geni del DNA di un individuo significa trovarsi davanti a decine di migliaia di varianti, fino a 50-60.000, doverle filtrare per escludere quelle benigne e quelle irrilevanti, fino a trovare l'unica che è causa della malattia, come cercare un ago in un pagliaio. Il software IVAI, sviluppato dalla start-up InGenome, aiuta proprio questa analisi e ne accorcia i tempi. Ed è in grado anche di evidenziare varianti non ancora conosciute e responsabili di una patologia. Supporta il genetista nell'interpretazione delle varianti genomiche, effettuando una pre-classificazione di tutte le varianti individuate in un paziente, con l'obiettivo di posizionare come un motore di ricerca nelle prime posizioni le varianti causative della patologia. È un software as a service, quindi di fatto una piattaforma web basata sul cloud. L'intelligenza artificiale, ovvero con algoritmi di machine learning, che apprendendo da banche dati pubbliche e private, è capace di allenare appunto dei modelli predittivi che poi vengono utilizzati e che imparano con il tempo e migliorano con il tempo proprio per predire la patogenicità ad esempio di varianti o estrarre informazioni dalla letteratura di interesse. IVAI permette di ottenere in pochi minuti o in qualche ora risultati che prima richiedevano giorni. Non solo, integra anche altri dati come le indicazioni cliniche del paziente, così da individuare quali sono le mutazioni più correlate al suo profilo. Per questo software, oggi usato in diversi laboratori in Italia e all'estero, in genome è stata premiata dallo European Innovation Council con un finanziamento da 3 milioni e 700 mila euro. Questo ci permetterà di sviluppare ulteriormente la nostra tecnologia estennendo l'interpretazione attualmente fatta da IVAI anche a combinazioni di varianti. In modo tale anche da colmare quel gap che attualmente è presente, ovvero che circa il 50% dei pazienti affetti da una patologia rara ad oggi rimangono non diagnosticati. È tutto per oggi, grazie per l'ascolto. Leonardo torna domani 3-10 su Rai3. Buon pomeriggio.